Un benvenuto a tutti signore e signori in questa simpatica puntata dove non mi ricordo cosa devo fare perché da un po' che non registro Dunque, una cosa di cui sono certo è che io tento sempre di far uscire il più episodi possibili a settimana Però ogni volta rimango clamorosamente fregato dal fatto che non riesco mai a fare cose, persone, animali e oggettistica fallica varia Allora, dunque, ci eravamo lasciati l'ultima volta, se non mi ricordo male, con il dubbio del dubbio, con il crafting di questo Che ho fatto praticamente a cazzo di cane, cioè l'ho fatto fuori dal... l'ho fatto off camera, intanto mi mancavano soltanto due enderpearl e basta, se non mi ricordo male Aspetta un attimo, esci dal menu Sì, sì, giusto, giusto, ero arrivato tipo a fare tutti questi pezzi qua, ce li avevo già, il vibrantallo io ce l'avevo, la glowstone ce l'avevo Ho fatto i double capacitor, però mi mancava No, giusto, mi mancava il vibrantalloi, perché il vibrantalloi erano due energeticali che io avevo, quegli arancioni Mi mancavano due enderpearl, adesso non mi ricordo manco quanto ne ho di enderpearl, dovrei andare a guardare Guardiamo un attimo Scusi, ah no, il live range ancora Dunque, n... no, ok, non ne ho Niente, ne ho due ne avevo e... cioè due ne ho trovate e due ne ho usate Scusate, sono andato a controllare perché non mi ricordavo Dunque, cosa facciamo oggi? Allora, siccome mi manca una cosa molto fondamentale in questo mondicello, ovvero una cosa chiamata mob farm Perché con la mob farm si fanno molte cose, dall'enderpearl, alla polvere da sparo, alle ossa dei cosi per fertilizzare Si fa un po' di roba, no? Quindi stavo pensando, quasi quasi, quella piattaforma che ho lasciato lì in mezzo vuota Che volevo farci di macchinari grossi e cazzate varie Cosa che poi magari userò anche Oppure ne faccio un'altra da un'altra parte Potete usarla, intanto Essendo mattina, ovviamente Lo sbadiglio è potente in noi Stavo pensando di farne o un'altra piattaforma O di farla tipo un po' isolata In modo che in caso di fuga di mob non ci sono più di troppi problemi Non abbiamo ancora uno spawner di niente Cioè non abbiamo ancora trovato mob spawner per adesso Devo andare a far un attimo un giro, devo andare a cercare Però stavo pensando che in linea di massima Dovremmo riuscire a Fare uno spawner abbastanza decente Basta fare tutto al buio L'unica cosa che manca Per fare i I conveyor belt che fanno praticamente spawnare i mob Che sono questi qua della Della cosa Come si chiama questa La extra utilities Ci servono i track I track Essendoci la La raycraft Si devono fare per forza con rolling machine e cazzate varie Quindi di conseguenza a noi manca il Che rosote qualcosa Il che rosote oil Insomma quello delle piante no? Se non mi ricordo male O i Sì infatti Se io metto oil Non esiste Quindi Non devo schiacciare Devo schiacciare Esc Comunque non vi dico Da quando gioco a A fallout 4 Quante volte Anziché schiacciare la E in minecraft Schiaccio il tab Che è una cosa Che è una cosa improponibile Perché ogni volta mi viene da schiacciare il tab Per 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 aprire l'inventario Menù e cazzate varie Ma a parte questo Quello che dobbiamo fare È una simpatica Cosa Chiamata Non mi ricordo più Come si chiama quella merda? Oven Non over Oven Eccola qua Questa qua La cook oven brick Che si fa con la sabbia E il brick cotti Io dovrei trovare I brick cotti Prima di tutto Allora dunque Ne ho 122 Dunque Quindi sono 9 Allora Ricapitoliamo un attimo Facciamoci due conti Allora la cook oven Che è questa qua Ci vuole un 3x3x3 Con un buco in mezzo Quindi sono 9, 18, 27 Meno 1 sono 26 Sono 26 blocchetti Per fare un blocchetto di questi Ci servono 4 di queste No? Quindi Sono 4 di Di brick Quindi sono 4 per 26 Supprendo che siano 25 Sarebbero 100 Quindi sono 100 e 4 No Sono in più 100 Insomma Io ne faccio 100 e qualcosa Poi vaffanculo Quindi Prendiamoci la clay Ne prendiamo Per fare 164 10 20 30 40 Ah 104 Giusto 100 164 Vabbè Chi se ne frega Prendiamoci questi E poi ci serve anche un po' di sabbia La sabbia ce ne servono 5 per Qualcosa Quindi sono circa 125 Noi facciamo 134 E vaffanculo Ok Aspettino un attimo che arriva Perfetto Allora adesso devo andare Amichevolmente Prima di andare a dormire Devo mettere a cuocere Queste simpatiche cose E le metterò a cuocere In una fornace a random Tipo Questa Impostata su Alloys only No Fermate Girati in fornace Grazie Clay E clay Perfetto Tanto noi possiamo usare Poi il nostro Mastruzzo Di trucchetto Ma pazienza Ma vediamo un attimo Se per sbaglio Fornas only What What Ah no aspetta Ho capito Ho capito dove sto sbagliando Allora dunque 29 Lasciamo 37 Boh Qua facciamo tipo Così Si dai Che va bene così Gli buttiamo questi Qua gli buttiamo questi Qua gli buttiamo questi Qua gli butti Questo qui è cattiveria E qua uno Perché è strozzo Allora aspetta C'è il primo Che ne ha troppi Facciamo 15 No Devo fare un multiplo Di 3 Dai Cazzo 5 4 3 Ok Perfetto Quindi buttiamo 3 qui dentro 3 qui dentro In modo molto Randomico E casuale Comunque la risposta è Si Devo aumentare la produzione Di cose Perfetto Tu stai a 12 Chi se ne fotte Vanno un po' piani Piano O è una mia impressione Sti a fare Non so Sembra che vadano piano Ma C'è la corrente qua dentro O è farlocca No C'è un fracco Sembra che vadano un po' piano Vabbè Allora dunque Noi dobbiamo andare Esattamente di sopra Adesso A fare tutti i nostri Crafting Della situazione Che poi non sono tanti Però Allora dunque Dovamo avere questi qua I bricks Che stanno aumentando Nel frattempo Che loro aumentano E Ah Devo uscire Noi possiamo fare una cosa carina Allora Send Dobbiamo metterla Tipo a X Quindi per mettere a X Mi farò aiutare Dall'elettrica Steel Che andrà Temporaneamente A sostituire Il coso Allora Questo così Questo qua così Va bene Questo lo mettiamo qui Avevo detto che dovevano essere 26 Giusto 9 18 27 Meno 1 26 Ok Quindi i conti della sabbia Sono giusti Me ne crescivano Soltanto 4 E adesso Vediamo se i conti Delle Mattonelle Sono giusti Tanto La sabbia Possiamo buttarla qua dentro Le tre castile Questo L'ender chest Che non mi ricordo Quando cazzo l'avevo fatta No L'ender chest Me la tengo Il pezzo di legno La leva Teniamo che non si sa mai Boh Teniamoci anche il sacchiero Di sangue che non si sa mai Magari Se abbiamo un'emorragia Dobbiamo raccogliere Il sangue da terra Allora Dunque Dicevamo Dicevamo Che siamo a 104 Io ne ordino 104 74 84 94 104 Grazie Vediamo se Avevo fatto i conti giusti Allora 64 Tac E Mortacci tua E Tac Perfetto Ho 104 Ho fatto i conti giusti Perfetto Abbiamo fatto 26 blocchetti Di bloccoso Blocchettoso Blocchettante Che non so nemmeno io Che cazzo voglia di E la nostra Mega fornace Potremmo anche Imbuscarla di qua Perché qua Occupa troppo spazio Oddio 3x3 Non è che sia quel gran che Però Intanto Il nostro impianto Dobbiamo farlo Continuare Da qualche parte Dunque Te ti stacco Un attimo Che te non mi piaci Qua Ti devo cambiare Ubicazione Ti metterò qua E qui Oh guarda Come mezzo ne è alta 3 Possiamo fare La nostra fornace E' un 3x3 No Penso che Quasi quasi La metto di qua Perché di lì Oppure mi occupi Troppo spazio Allora dunque 1 2 3 Così Poi 1 2 1 2 3 4 5 6 6 1 Allora 1 in fondo 1 qui 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 1 in mezzo E tac Eccoci qua Cucoven Allora Nella nostra Cucoven Abbiamo varie opzioni Ne abbiamo ben 48 Quindi Vediamo cosa offre Allora Per avere il Cratote oil Dobbiamo mettere No Sbagliato Torna indietro Torna indietro Come si fa Come si fa Come si fa Uh Che cazzo di Cucoven Sei te Ok Allora Cucoven Della Coso Non serve Della Cucoven Allora Il coal Normale Poi abbiamo Il legno Che è la cosa Più Più bella Che abbiamo Perché ne abbiamo In abbondanza È quasi infinito Chilotoni Chilotoni Di legno Aspetta che li passo Tutti Veroce Rapido Dai 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 Uh Quanti Ah Boh Niente Il cazzo Solo legno E coal Tutti i pezzi Quindi legno grezzo E coal Va bene Quindi io potrei anche Impostare un Un impianto Della logistic Che si collega Prende le cose Fa le altre cose Però Dovrei impostare Anche un impianto Ok Non facciamoci troppe Segmentali Dunque La prima cosa da fare È questa Prendiamo il legno E ce la mettiamo a mano Perché facciamo prima O potrei prendere anche il coal No Prendo il coal Perché almeno Così sono Sicuro di Averne di più Subito all'inizio Che mi serve tanto Ma questo che è ossidiana Un k di coal Dunque Un k di coal Lo usiamo tanto il coal No Non mi sembra che ne usiamo tanto Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E nove Io azzardo Un nove Vediamo cosa succede Ah Quanto ne arriva Perfetto Allora Apriamo un attimo La chest Prendiamo Tutta la roba Da sotto Che facciamo prima Allora Dunque Facciamoci i blocchi di coal Che siamo a posto Et Voi la Allora Di cattiveria Adesso ci andiamo a buttare dentro Il Coso Questo E intanto La gente mi chiama Giustamente Come ogni volta Che mi chiamano Sono sempre grane Da andare a Scartavettare A lavorare Giusto perché Come in azione sono in ferie Quindi la gente Deve rompere i coglioni Ma questo è un altro discorso Allora Dunque 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 Ero arrivato Al cuco Vensì Che stiamo facendo Un po' di Merda Ok Dunque Adesso Noi Per togliere La cosa La cosa Cosa Dovremmo fare Un'altra cosa Che è sempre Una cosa Carina Dunque Noi dobbiamo Prendere Dobbiamo impostare Praticamente Un Crafting Logistic Pipe Su Un'altra Su un altro Tipo di Fornace In modo Che Il nostro Vi spiego come va fatto Poi Ve lo faccio vedere Fatto Magari Nella prossima puntata Che faccio prima Perché Ho già fatto 14 minuti Prima Della interruzione Telefonica E non vorrei Dilungarmi Più di tanto Praticamente Noi dobbiamo Impostare Una di queste Fornaci Dico questa Per comodità Che faccia La seguente Cosa Praticamente Questa fornace Deve Cuocere Continuamente Il vetro Il vetro Viene Automaticamente Trasformato In Boccette Di vetro Perché Vanno Poi consumate Durante La creazione Dei binari Le boccette Di vetro Vanno Dentro Il Cook Oven Lì in fondo No Che vanno Messe Qui in alto Se non Succede Niente E una volta Che sono Messe Lì in alto Si vengono Autoestratte Ovviamente Da un Extractor Tanto per Cambiare Che Tendenzialmente Dovrebbe E dico Dovrebbe Mandarle Presumibilmente Li manderò Dentro Un Barrel Perché Mettere Dentro Una cesta Mi sembra Un po Rischioso Perché Magari Non vorrei Che poi Si intesasse L'impianto In caso Ce ne fossero Troppo Barrel Fai Rapido Fai Un cambio Rapido Se è a posto E E niente Questo qui L'impianto Che devo fare Dopo Per il momento Io vi Abbandono Perché Oddio Potrei anche Non abbandonarvi Però Chi se ne frega Purtroppo Quando rompono Le palle Da lavorare Sei sempre Un po Sull'agitato Andante Quindi Hai sempre Il dubbio E dici Oh mio dio Adesso Come faremo Senza Lui Non è vero La gente Se ne batte Il cazzo No Comunque Adesso Troviate a parte Che figo però Si è già caricato Io Gli ho messi Poco tempo fa Sono già caricati Mi piace Il vetro Dove me lo mandi Fanciullo Me l'hai mandato là Perfetto Quindi io il vetro Lo devo riordinare Mannaggia a te Allora Scusate Riordino il vetro Così vi faccio Un attimo Vedere Ah ne avevo Già 37 Fico Allora Le boccette di vetro Se non mi ricordo male Si fanno con tre pezzi Di vetro Appena arriva Grazie Vetro Dai Eccoci qua Perfetto Le tre cose di vetro Si mettono Uno Ok Ogni Vetro messo a V Diciamo Ci da Tre boccettine Queste tre boccettine Vanno amichevolmente Messe qua dentro Adesso ovviamente Non ci sarà ancora il Non mi si apre il coso Grazie Adesso non c'è ancora niente Perché sta finendo ancora Di bruciare il coso Purtroppo 16.000 tic Sono tanti Non mi ricordo Quanti minuti sono Perché Aspetta 16.000 Bisogna far diviso 20 Perché sono 20 tic al secondo Quindi sono Quanto sono Scusa 1.6 16 No aspetta 16.000 Ci tolgo Uno 0 al 20 Uno 0 al 16 Mila Sono 1.6 1.6 Diviso Ancora 2 Sono 8.000 8.000 tic 8.000 Secondi Non so quanti sono Non me ne frega un cazzo E Vaffanculo Va bene Comunque L'idea è questa Qui adesso Collegheremo cose Persone e animali Visto che abbiamo Il nostro tubicino Qua a portata di mano O a portata di ano Anche per alcuni Roti piccone Ci collegheremo Qua di fianco Con un supplier Per portare I I cosi I glass Battle E poi Ci collegheremo Con Un extractor Che dovrebbe Salvo imprevisti Estrarre Il Il coso Dovrebbe Estrarre Il Coso Aspetta un attimo Logistic crafting Sto cazzo Ce l'ho Perché vedete Io adesso Dovrei fare una cosa Del genere Aspettate Questo qua Era pieno Questo era pieno Questo era pieno E questo era pieno Perfetto Quindi Allora io rompo Un attimo questo Ci piazzo La nostra Crafting Coso E la imposto Subito Con Con cosa Eh Con cosa Con il vetro Allora Aspetta Facciamo così Glass Così Perfetto Esc Esc Tasto destro Glass bottle Della minecraft E Così Tac La impostiamo Già Ah ne possiamo fare Più di un Tipo diverso Minecraft 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 No è sempre Minecraft Vaffanculo Ok L'abbiamo impostato Così Quindi Adesso poi Ci colleghiamo Il crafting Logistic pipe Che non mi ricordo Più se ce l'ho Ma soprattutto Non mi ricordo Dov'è la roba Della logistic Mettendo la roba Nell'impianto A cazzo Ogni volta Devo controllare 8 chest Diverse Crafting Listic Pauà Che culo Guarda che culo Ne abbiamo uno Ok Lo metto un attimo qua Qua gli faccio leggere Import E siamo a posto Perfetto Allora dunque Per il momento Ci salutiamo qua Perché siamo arrivati a 20 minuti Tra una cazzata e l'altra Se non di più E ci vediamo Nella prossima puntata Sperando Che il rumore Che sento Dal mio computer Non sia quello che penso Perché se no Tiro giù Tante di quelle bestemmie Che la metà bastano Quindi per il momento Un saluto a tutti E alla prossima E alla prossima E alla prossima